Microchip emozionale è un disco che per le persone della mia generazione è stato un disco davvero fondamentale però non solo per quelli della mia generazione. Nel 99 usciva Microchip emozionale, nel 99 nascerano due di questi componenti dei Vistrea, del 2000 e gli altri due insomma. Diciamo che è bellissimo dare il via a questa serata con la prima traccia andiamo in ordine proprio della tracklist del disco per rispettare quello che scelsero di Smithsonian quando fecero la scaletta e vi invito ad avvicinarvi e ad ascoltare cosa hanno fatto questi gruppi con il loro stile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.